a portare in alto il nome del nostro paese nel mondo tra i tanti talenti sportivi italiani tra l'altro non certo facendolo in maniera banale è stata la fiorentinissima classe 93 Martina Trevisan che dopo aver vinto tutti e tre i turni di qualificazione agli Australian Open di tennis 2020 è riuscita a raggiungere la storica partecipazione allo slam per la prima volta in carriera uscendo poi nel primo turno del torneo contro una durissima avversaria le qualificazioni sono state tre partite e il quarto è stata appunto la Kenin diciamo che era un ostacolo molto grande però me la sono giocata mi sono divertita e sono stata molto felice di aver condiviso il campo insieme a lei un risultato quello di Martina che vale tantissimo e che ripaga anni i grandi sacrifici e di una vita tennistica vissuta tra alti e bassi anche con delicate vicende extracampo è stato un momento difficile della mia vita in cui non stavo più bene all'interno del campo da tennis e a farlo in quella determinata maniera quindi avevo bisogno di allontanarmi per ho ascoltato me stessa ecco per stare meglio dentro me un vero e proprio riscatto insomma una rivincita quella di Martina Trevisan prima di tutto con se stessa dopo la decisione di smettere nel 2010 quella di tornare più forte di prima e adesso che davvero sembra che non ci siano limiti alle chance future dell'atleta fiorentina chissà vista anche la giovane età dove potrà arrivare? Oggi chi è e cosa vuole Martina Trevisan? Oggi Martina è una ragazza come tante altre ragazze che gioca a tennis a livello professionistico e dopo un periodo di difficoltà vuole riprendere quello che aveva lasciato e quindi cercare di entrare tra le prime 100 giocatrici al mondo